Salve a tutti amici, in questo video tutorial pregherò come cercare un file per la nostra stampante 3D, modificarla in FreeCAD e alla fine riuscire a esportare per ristamparla di nuovo. Come tutti quanti sappiamo su Thingiverse e siti simili si trovano molto spesso dei file che possono esserci utili perché il 90% delle volte ognuno lo personalizza come più gli piace. Quindi vediamo come si può cercare un file abbastanza velocemente e come modificarlo con FreeCAD. Il sito che io consiglio, come tutti quanti state dicendo Thingiverse, no, io faccio la ricerca tramite STL Finder. Questo sito è un sito che cerca i STL nel web, quindi mette dentro anche i file di Thingiverse. Quindi facciamo una ricerca di un tipo fan d'act, delle nostre stampantine e abbiamo diversi tipi di fan d'act. Facciamo che ne scegliamo uno qualsiasi. Questo qua su Thingiverse potrebbe essere una cosa interessante. Seleziono e vado sul sito direttamente, quindi download modello dal sito. Andiamo indietro. Come vedete, qui sul nostro, su STL Finder, ci dà la possibilità di cercare su diversi siti, da Thingiverse a... A maggior parte sono Thingiverse. Print the shape. Cerchiamo qualcos'altro, vediamo se troviamo qualcosa di interessante. E così via. Ecco, sempre Thingiverse questo è un poccadino. Il 90% è Thingiverse. Comunque possiamo cercare un po' di tutto, quindi non... Non sempre è Thingiverse. Diciamo che... Print the shape. E così via. Cioè, comunque sia, troviamo... Quello che ci interessa lo troviamo abbastanza velocemente. Possiamo vedere di scaricare uno qualsiasi di questo. Questo qua mi interessa, voglio vedere. Quindi ci clicco sopra. Vedo sul sito come è fatto. Ed ecco che Thingiverse ci mette un mese e mezzo a caricare. Quindi, una volta che siamo qui sul sito di Thingiverse, possiamo guardarlo in 3D. Ok. E lo possiamo scaricare. Quindi lo scarichiamo. Ci fa attendere la solita pubblicità. E alla fine ce lo fa scaricare. Quindi, apriamo il file. Che ci interessa questo qua, FanDact.stl. Lo estraiamo. Apriamo un nuovo modello. E importiamo. E FanDact. Perché abbiamo scombattato. Quindi Dual FanDact. Questo qui. Entriamo. File. Eccolo qui. Lo apriamo. Ed eccolo che abbiamo su FreeCAD. La forma che abbiamo scaricato da Thingiverse. Adesso, una cosa abbastanza curiosa. Che noi, su questa forma, già dall'ambiente Mesh Design, possiamo modificare questa mesh. Quindi, diciamo, possiamo fare... E importare la mesh, esportare, creare una forma, riempire e fori, chiudere e chiudere i suori, aggiungere un triangolo, rimuovere un compotente, e il solito regolare. E qua possiamo fare... Comunque, se noi vogliamo lavorare su questo... su questo... con questo file, possiamo tranquillamente convertirlo in un solito. Che cosa vuol dire convertirlo in un solito? Adesso la mesh ha solamente le pareti. Per FreeCAD, se io vado a fare un'operazione con part, quindi voglio provare a togliere questa qualcosa qui, quindi creo un cubo. Lo trasformo, lo metto qui. Faccio una sottrazione. Mi dà un risultato errato. Ok, vedete? Mi ha dato un risultato errato. Questo perché ho tentato di togliere a una mesh un oggetto solido. Quindi, per fare questa... le modifiche che potremmo fare, tipo io vorrei chiudere questo... questa apertura qui sotto, no? Che a me non interessa. Per chiuderla, la prima cosa che dovrei fare è trasformare questa mesh, quindi solo le pareti dell'oggetto, in un solito. Per trasformarlo in un solito, faccio parte e... crea forma da mesh. Quindi, dalla mesh, creiamo una forma che si avvicina molto e diamo una tolleranza molto piccolina, 0,1 mm, quindi andrà molto vicina all'oggetto e diamo ok. Ci si prende il suo tempo per creare la forma e ecco che ci ha creato una forma. Pandac te lo posso anche togliere, la mesh che abbiamo caricato. È rimasta la forma che FreeCAD riconosce, ma riconosce come un insieme di facce. Posso togliere una linea di queste, ma mi darà problemi, errori. anche facendo una sottrazione booleana sempre con un cubo, lo ritrasformiamo, lo mettiamo in modo che lo riusciamo a vedere. Ok, da qua sotto guardiamo. Do ok e faccio Pandac cubo, sottrazione booleana, me l'ha tolta, ma mi ha dato questo errore, vedete? Non so se si riesce a vedere bene, c'è l'oggetto, non è un solito, ma è un vuoto, c'è solamente le pareti, non ha la parte centrale. Infatti riusciamo a vedere l'interno cosa che non succedeva se era un solito, cioè se era un solito qua dentro vedevamo tutto via. Come fare questa cosa? togliamo il cubo, anzi non nascondo momentaneamente, seleziono FanDact e dalla parte Part, sempre dal menu a tendina, selezioniamo Crea un solito, Converti in un solito. Questo FanDact che esisteva prima lo togliamo, adesso abbiamo questa forma che è simile a quella vecchia, però è stata diciamo riempita. Proviamo a togliere il cubo che abbiamo tolto prima e vediamo che cosa succede. Quindi selezioniamo FanDact, selezioniamo il cubo e togliamo il cubo. Ok? Guardate, è stata tagliata ma non si vede l'interno. Ok? Quindi, adesso possiamo fare tutte le modifiche di lavorazione che ci pare su questo oggetto che è in realtà un solito. Quindi, togliamo di nuovo il cubo e vediamo come fare un'altra piccola cosa. Questo qua è FanDact e possiamo fare ancora una cosa affinare la forma quindi toglie le linee superflue. ok? Quindi è molto più leggera per il programma girarla, modificarla o faccio modifiche da sopra. Quindi togliamo la vecchia. Abbiamo detto che io su questa faccia vorrei chiuderla o magari fargli un buco che ne so. Quindi adesso posso fare qualsiasi cosa come usiamo FreeCAD nella maniera classica. Quindi andiamo su parte design e selezioniamo l'oggetto e creiamo un nuovo corpo. Se fate caso FanDact è stato preso invisibile mentre mi ha creato una base factor dentro il bot. Quindi io con questa base factor posso fare tutte le modifiche che voglio come se usassi e come se l'avessi creato io da zero. Quindi diciamo che se seleziono questa faccia e dico di creare uno sketch mi fa creare lo sketch da questa faccia. Come nelle altre nelle altre simulazioni che abbiamo fatto posso tirare dentro i lati posso mettere una linea che parte da qui a qui una che parte da qui a qui a qui a qui a qui ok ho una faccia aperta quindi apriamo lo sketch vediamo qual è la faccia aperta questa ecco qui quindi diciamo che questo punto e questo punto li uniamo adesso lo sketch è verde quindi giudo crea la nostra estrusione anche senza invertirla diciamo che deve essere di un millimetro e abbiamo chiuso la faccia che abbiamo che volevamo chiudere possiamo anche per esempio fare un buco da questa parte vediamo che ha l'estrusione selezioniamo l'altra faccia facciamo di solito sketch e qui mettiamo un cerchio logicamente sto facendo le cose di corso in modo che riusciamo riesco a spiegare bene come modificare come è possibile modificare anche questi oggetti ok adesso dal cerchio facciamo un buco di un paio di millimetri guardiamo da dentro ok e come questo possiamo fare altre mille modifiche applicare testi adesso molto presto caricherò la un altro tutorial per i testi e poi farò un altro tutorial su su svg per l'importazione di svg intanto sappiamo come modificare un file preso da thingiverse e adesso vediamo come si esporta prima di tutto bisogna selezionare se abbiamo usato part design come ho fatto io in questo caso posso selezionare l'ultimo oggetto diventa tutto verde faccio file esporta gli dico che fan d'act stl già si chiama così ma ci metto my version e lo salvo in stl già direttamente adesso lo posso caricare in un software di stampante 3d e vedere come si vede ecco qua l'oggetto e come possiamo notare c'è un buco dietro e non c'è più il buco questo centrale che ci avevano fatto di 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 lavorazione se il video vi è piaciuto o vi è stato utile potete lasciare un like se avete domande o perplessità lasciate un messaggio risponderò prima possibile se volete potete iscrivervi al canale e cliccare sull'icona della campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video nella descrizione troverete anche il link del canale frica di italia un official una community sempre attiva ed in crescita ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video